Hanno sfondato muri e porte, hanno poi tagliato i fili dell'energia elettrica e sono entrati all'interno dell'azienda, poi si sono dati alla fuga con due casse forti. Un colpo studiato nei minimi dettagli, quello messo a segno alla cantina sociale del Valdarno Superiore a San Giovanni Valdarno, nella notte tra domenica e lunedì. Secondo una prima ricostruzione, i banditi, dei veri e propri professionisti che probabilmente conoscevano bene la struttura, avrebbero lasciato un furgoncino poco distante dalla cantina, avrebbero poi attraversato a piedi campi e divelto la rete di recinzione. Una volta nel piazzale della cantina, i ladri avrebbero tagliato i fili dell'elettricità e quelli degli allarmi per poi dirigersi verso gli uffici, dove sono riusciti a buttare giù un muro e portare via una cassaforte. I malviventi hanno poi raggiunto il punto vendita, scardinato la porta e distrutto anche in questo caso un altro muro per portare via l'altra cassaforte. Fuori i malviventi avevano anche bloccato il piazzale con alcune casse per impedire così ai mezzi di passare. Infine la banda si è data alla fuga, sempre attraverso i campi. Per trasportare le cassaforti rubate, i banditi hanno utilizzato due carriole rubate nella zona. L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte e mezzo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, che guidano le indagini, ma dei banditi all'arrivo delle forze dell'ordine non c'era più nessuna traccia. Resta ancora da quantificare il bottino, che potrebbe girarsi attorno ai 7.000 euro, ai quali si aggiungono anche gli ingenti danni subiti dalla struttura.